Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Anne-Marie Cochrane nasce il 30 luglio 1972 a Springfield, città nella stato del Massachusetts attraversata dal fiume Connecticut e conosciuta come la patria del basket. Anne-Marie proviene da una famiglia irlandese molto unita ed è considerata una bambina gentile dal cuore grande, ma anche simpatica, propensa a far ridere chi la circonda. Anne-Marie ama la musica e gli animali, in particolare i cani, infatti cresce con uno shih tzu di nome Snuggle e un barboncino di nome Charlie. Non a caso da piccola sogna di diventare una veterinaria e di aiutare gli animali, ma alla fine deciderà di soccorrere le persone. Infatti, dopo essersi diplomata alla Cathedral High School, sceglie di frequentare una scuola per paramedici e poi inizia a svolgere questa professione presso l'American Medical Response Ambulance, operativa a Springfield e a Holyoke, 8 miglia più a nord. Anne-Marie ama davvero il suo lavoro e supera anche le aspettative di chi la conosce. È lei a guidare l'ambulanza, poi spesso nei mesi più freddi si ferma per dare supporto ai senza tetto, offre loro un passaggio verso vari rifugi per assicurarsi che stiano al caldo. A Anne-Marie guidare piace, anche se preferisce farlo sulla sua macchina, a cui tiene tantissimo, tanto che la lava tutti i giorni. Adora il golf, la fotografia e viaggiare, fare delle vacanze invernali in Florida per scappare dal freddo, andare in crociera, praticare immersioni subacue e sogna di poter nuotare con i delfini un giorno. Quanto al suo orientamento sessuale, Anne-Marie piacciono le ragazze. Quando aveva 16 anni, uno zio l'aveva sorpresa mentre baciava una ragazza, così si era sentita obbligata a rivelare alla sua famiglia di estre lesbica. Nonostante Marie faccia parte di una famiglia molto cattolica, quando aveva fatto coming out, nessuno l'aveva cacciata di casa, come avvenuto in altri contesti, o aveva provato a convincerla a sottoporsi a una terapia di conversione. I suoi cari non l'avevano giudicata, avevano accettato le sue preferenze perché amano Anne-Marie e lei si era sentita chiaramente sollevata. Nel dicembre del 2002, Anne-Marie inizia a uscire con Carla Rintala, che ha 7 anni più di lei. Anche Cara è un paramedico, ma lavora presso i vigili del fuoco. Mentre Anne-Marie ha un carattere estroverso e vivace, Cara è un po' più riservata, ciò nonostante le due si innamorano ben presto e, nell'agosto del 2005, si sposano. Dopo le nozze, Anne-Marie va a vivere da Cara a Granby, un sobborgo di Springfield. Nel 2007, la coppia adotta una neonata di nome Brianna. Tre anni dopo, il 28 marzo 2010, Anne-Marie sta svolgendo il turno di notte a Springfield, mentre Cara è a casa e riceve un messaggio da un amico di nome Mike. Lui le scrive che ha appena comprato una confezione di 6 birre e vorrebbe consumarle con lei, così Cara inviò un messaggio ad Anne-Marie. Lei informa che Mike sta per farle visita, ma la compagna non la prende affatto bene, anzi, si infuria. Anne-Marie infatti le risponde, è evidente ciò che provi per me e non mi piace sentirmi in questo modo, tu sei mia moglie. Al che Cara le scrive, ok, sei esagerata, sei impazzita senza motivo e invece è tutto ok perché lui è un mio amico, non faremo niente di sbagliato. Anne-Marie però ribadisce, sei scorretta, me ne vado, non te ne frega un cazzo, è questo, è rispettoso. Dopo questa accesa conversazione, Anne-Marie continua a lavorare. Quando il suo turno finisce, sono le 8 della mattina del 29 marzo 2010 e lei rientra verso le 9 e 30. Una volta a casa, Anne-Marie chiama suo padre e parla un po' con lui, mentre Carla, poco dopo, riceve una chiamata dai vigili del fuoco. Le viene chiesto di coprire un turno, quindi lei si dirige al lavoro, ma presto scopre che non deve restare lì a lungo. Così, intorno alle 11 di quella mattina, torna già a casa. Verso le 15, Cara esce di nuovo con la figlia Brianna per sbrigare delle commissioni e le due rientrano intorno alle 19. Una volta a casa, Cara chiama Anne-Marie, la quale però non le risponde. Poi Cara nota che la porta del seme interrato è aperta, guarda meglio giù e vede i piedi di Anne-Marie che spuntano in fondo alle scale. Preoccupata, prende Brianna e il cane e corre a casa di un vicino. Li affida a lui e gli chiede di chiamare i servizi di emergenza. Intanto lei torna nella sua abitazione in tutta fretta. La polizia risponde la chiamata del vicino in meno di 5 secondi. I primi soccorritori arrivano praticamente subito, entrano in casa, vanno in cucina, notano che la porta del seme interrato è aperta e sentono le urla di una donna. I detective si precipitano nel seme interrato e vedono Cara seduta sul pavimento che culla il corpo di Anne-Marie. Ormai senza vita. Aveva solo 38 anni. Cara è isterica, non vuole allontanarsi dal corpo della moglie e quindi i soccorritori sono costretti a spostarla con la forza. Soltanto a questo punto si rendono conto che Anne-Marie è rigida e gonfia, che la sua pelle è ormai fredda. Capiscono che la donna è stata presa a calci ed è morta diverse ore prima del ritrovamento. A gettare un'anomalia sulla scena del crimine è la presenza di vernice fresca sia addosso ad Anne-Marie che a Cara. Il corpo della prima ne è quasi interamente coperto, mentre quello di Cara è attraversato da alcune strisciate. La polizia ben presto individua accanto al cadavere di Anne-Marie un secchio rovesciato da cinque galloni da cui appunto fuoriesce della vernice bianca. Pare però che questa si è mescolata con il sangue della vittima assumendo una colorazione rosa. I paramedici spostano il corpo di Anne-Marie dalla scena e portano Cara al piano di sopra facendola accomodare al tavolo della cucina. L'ufficiale le chiede cosa sia successo e Cara in lacrime risponde che lei e sua moglie avevano litigato la notte prima. Erano arrabbiate l'una con l'altra così lei quel giorno si era allontanata per rinfrescarsi le idee. Aveva sbrigato alcune commissioni portando con sé la figlia Brianna mentre Anne-Marie era rimasta a casa per trascorrere un po' di tempo in tranquillità. Stava facendo un pisolino in realtà ne aveva bisogno dopo il lungo turno che aveva svolto a lavoro. Cara poi spiega che una volta rientrata aveva intravisto il corpo di Anne-Marie in fondo alle scale quindi era corsa con Brianna a casa di un vicino l'uomo che aveva chiamato i servizi di emergenza sanitaria. Poi si era recata alla svelta nel simo interrato. Anne-Marie era riversa faccia in giù così Cara l'aveva girata per metterla su pina. Anne-Marie era già ricoperta di vernice e Cara come riferisce all'ufficiale aveva pensato che fosse inciampata e caduta dalle scale. Tuttavia la polizia la considera una sospettata. A questo punto Cara chiede agli agenti se può lavarsi e cambiarsi i vestiti prima di andare alla stazione di polizia e l'ufficiale le permette di farlo ma sotto sorveglianza. Infatti un altro ufficiale si reca con lei nel bagno e la osserva mentre si lava le mani e il viso. In quel momento il naso di Cara inizia a sanguinare leggermente e lei se lo tampona con un po' di carta igienica. Sta per prendere dei vestiti puliti ma un altro agente interviene per impedirglielo. Non può toccare nient'altro, quella è una scena del crimine. Cara viene quindi condotta alla stazione di polizia è sottoposta a un ulteriore interrogatorio. Nel frattempo gli investigatori rimangono sulla scena del crimine per portare avanti le indagini. È evidente che Anne-Marie riporta liquidi su tutto il corpo ma è troppo presto per stabilire la causa esatta della morte. Quindi il cadavere viene consegnato al medico legale per effettuare l'autopsia. Secondo l'esperto Anne-Marie presenta un totale di 23 contusioni tra gambe, braccia e schiena. Inoltre riporta delle ferite da corpo contundente alla testa quindi potrebbe essere stata colpita con un'arma da definire oppure avere impattato contro una superficie smussata forse a seguito di una caduta o dopo che qualcuno l'aveva spinta giù dalle scale. Il medico legale individua delle abrasioni anche sul mento di Anne-Marie e lungo la parte anteriore del collo. Questi lividi sono compatibili con uno strangolamento manuale che viene accertato come la causa ufficiale della morte della donna. A seguito di un test tossicologico si conclude che nell'organismo di Anne-Marie non sono presenti tracce di sostanze o alcol. Il medico legale stima che l'ora del decesso si aggira tra le 11 e 15 e le 13 e 15 dunque la donna potrebbe essere morta fino a otto ore prima del ritrovamento. In ogni caso se Anne-Marie fosse stata spinta o fosse caduta dalle scale e di conseguenza avesse perso i sensi o accusato uno stordimento a quel punto strangolarla sarebbe stato più semplice. Sei ore dopo la scoperta del corpo di Anne-Marie Cara si siede nella stanza degli interrogatori della stazione di polizia. Durante la conversazione attraversa momenti in cui è molto calma ad altri in cui è particolarmente isterica. Cara ricostruisce la cronologia degli eventi che scandiscono le ore precedenti al ritrovamento del corpo di sua moglie. Spiega meglio che Anne-Marie era arrabbiata perché lei aveva passato un po' di tempo con un amico comune. Ammette che ogni tanto litigavano che in quel periodo la loro relazione attraversava alti e bassi. Nel dettaglio Cara riferisce all'ufficiale che amava Anne-Marie ma lei era particolarmente irascibile e questo generava tensione in casa. Era una donna che non risparmiava le offese per cui litigavano spesso senza riuscire a risolvere i loro problemi. Priva dice che Anne-Marie era una persona inclina il conflitto che la maltrattava e le urlava contro. Inoltre era molto gelosa. Cara sottolinea anche che Anne-Marie non era nemmeno in grado di gestire i soldi infatti aveva aperto un proprio conto corrente ma aveva chiesto un prestito di 25 mila dollari a nome di Cara. Poi aveva pure prelevato tutti i soldi dal conto di risparmio di Brianna. Secondo Cara a Anne-Marie quel denaro non serviva per acquistare sostanze o giocare d'azzardo. Lei non aveva questi vizi ma era una patita dello shopping. Inoltre Anne-Marie sosteneva che parte di questo prestito dell'ammontare di 25 mila dollari le occorreva per saldare un debito universitario. Dunque Cara non aveva sport o denuncia contro Anne-Marie perché non voleva che Brianna vedesse sua madre in prigione. Cara afferma di aver perdonato Anne-Marie per queste azioni pur non avendole dimenticate. Infatti ripete che la sua defunta moglie era una manipolatrice esperta e una prepotente poi si ferma per ribadire che la ama ancora. È dispiaciuta perché ha la sensazione di tradirla mentre fa queste dichiarazioni su di lei. Averla dipinta in modo negativo la fa sentire malissimo ma poi torna a colpevolizzarla perché Anne-Marie con le sue scelte egoistiche aveva reso la casa in cui vivevano un posto miserabile. Cara racconta anche di una discussione avvenuta nel settembre del 2008. Ammette che aveva colpito sua moglie con una spatola poi con un pugno. La polizia l'aveva arrestata ma lei aveva confidato agli agenti che era stata Anne-Marie ad aggredirla per prima mostrando un segno rosso sul collo. Anne-Marie dopo questo episodio aveva presentato un ordine restrittivo contro Cara ma un mese più tardi lo aveva ritirato. Nel maggio del 2009 la polizia aveva ricevuto un'altra chiamata. Il centralinista era stato sommerso dalle grida di una donna. Poi un'altra voce femminile aveva urlato vattene vattene e basta. Infine o Cara o Anne-Marie avevano detto al centralinista che la figlia aveva accidentalmente chiamato il 911. Il 26 maggio 2009 i servizi di emergenza sanitaria avevano ricevuto una chiamata da Cara che nervosa spiegava che sua moglie stava minacciando di portare via la loro bambina. Lei non riusciva a contattare i suoi avvocati e aveva bisogno di aiuto. Durante quello stesso giorno entrambe le donne erano andate in tribunale per richiedere degli ordini restrittivi l'una contro l'altra e tutte e due chiedevano la custodia della figlia Brianna di due anni. Secondo Cara in quel periodo Anne-Marie la minacciava costantemente dicendole che le avrebbe tolto qualsiasi mezzo di sostentamento e si sarebbe presa la bambina. In quel caso però il giudice aveva chiesto a entrambe di imparare a convivere pacificamente. Brianna sarebbe stata affidata a un'altra famiglia visto che loro si erano rivolte delle accuse reciprocamente e condividevano una relazione instabile. Il magistrato aveva dato loro un'altra occasione evitando di accusarle di ricorrere al dipartimento per l'infanzia. Nel giugno di quell'anno la coppia aveva anche chiesto il divorzio e proprio in quel periodo Anne-Marie aveva iniziato una nuova relazione con una donna di nome Carla. Era persino andata a vivere con lei due mesi dopo ad agosto. Tuttavia quanto pare Anne-Marie aveva usato la carta di credito di Carla e speso 110 mila dollari quindi Carla l'aveva giustamente cacciata di casa e Anne-Marie era tornata a vivere con Carla. A questo punto la coppia aveva ritirato la richiesta di divorzio ma nonostante i tentativi di riconciliazione i litigi non erano cessati. Anne-Marie aveva prosciugato diverse carte di credito e contratto un mare di debiti. Un mese prima della morte di Anne-Marie la coppia era andata in Florida per far visita alla zia di quest'ultima e poi partire per una crociera ai Caraibi. Durante questo incontro la zia di Anne-Marie aveva percepito che Cara non riusciva più ad andare avanti con sua nipote e che voleva davvero mettere fine al matrimonio. Verso la fine dell'interrogatorio di Cara la polizia le chiede ancora cosa pensa che sia successo a sua moglie. Cara risponde non lo so ma ho la sensazione che mi state rivolgendo queste domande come se avessi qualcosa che fare con l'omicidio di Anne-Marie. Un detective ribatte sei tu quella che ha detto di aver litigato tutto il giorno con Anne-Marie. Cara si china in avanti sul tavolo si prende la testa tra le mani manifestando la sua frustrazione. Ciò nonostante il detective le ripete la domanda ma Cara ribadisce che non lo sa. Forse Anne-Marie è caduta dalle scale probabilmente è stato un incidente. Il detective però le sottolinea che Anne-Marie non è stata trovata così vicino alle scale a dimostrazione che era caduta. La interroga anche sulla provenienza della vernice e Cara insiste che non ne ha idea. Aggiunge che non sta ricevendo alcun supporto e si sente come se il dito venisse puntato direttamente contro di lei. Così al termine dell'interrogatorio Cara dice chiaramente che non avrebbe più parlato con gli investigatori in assenza di un avvocato. Dopo queste informazioni possiamo affermare che la coppia condivideva una relazione tumultuosa. Le cose non andavano mai veramente bene tra loro la tensione era costante e analizzando la scena del crimine Cara risulta decisamente sospetta. Intanto la polizia prosegue con le indagini e riesce a ricostruire la cronologia degli eventi che ha portato alla morte di Anne-Marie. Esaminando i dati del cellulare e i filmati di videoserveglianza si conclude che verso le 20 del 28 marzo 2010 Anne-Marie aveva iniziato il suo turno di lavoro che era durato 12 ore. Durante questo lasso di tempo Anne-Marie e Cara si sono scambiate dei messaggi dei toni aggressivi, rancorosi perché Cara voleva ospitare in casa un amico. Alle 8 del mattino del 29 marzo Anne-Marie è tornata a casa verso le 9 e 30. Come detto, ha contattato suo padre ed è rimasta a parlare con lui per un bel po' di tempo. Infatti hanno concluso la loro chiacchierata verso le 11. Cara invece viene convocata dal lavoro per svolgere alcune ore di straordinario. L'ultima attività in uscita registrata sul telefono di Anne-Marie è una telefonata indirizzata a sua zia in Florida con cui avrebbe parlato per circa un minuto. Tuttavia per tutta la giornata Anne-Marie ha ricevuto numerosi messaggi chiamate da diversi amici e anche da Cara senza mai rispondere a nessuno. Verso le 15 del pomeriggio Cara, tornata presto dal turno di lavoro extra, è uscita di nuovo con Brianna. Anne-Marie secondo il suo racconto avrebbe dormito un po' prima di tornare al lavoro per cominciare un altro turno alle 20. Cara viene vista nei filmati di sorveglianza del centro commerciale di Holyoke intorno alle 17. Entra in due negozi e compra una maglietta e dei calzini. Mentre si trovava al centro commerciale Cara ha mandato un messaggio a Anne-Marie ma come detto non otterrà mai risposta. Alle 17.47 Cara viene vista entrare nel parcheggio di un McDonald. Guida all'interno del posteggio col suo pick up per qualche minuto, scende dalla macchina e si avvicina a un cassonetto sul retro dove getta diversi oggetti. Dopodiché se ne va senza prendere nulla da mangiare. La polizia si ricca a controllare il bidone della spazzatura nel parcheggio del McDonald e trova diversi stracci per pulire di cui uno presenta una lieve macchia di sangue. Sfortunatamente il DNA presente sullo straccio in questione è troppo deteriorato per stabilire una corrispondenza e anche solo per determinare se si tratti di sangue umano. Dopo essersi allontanata dal McDonald, dieci minuti più tardi, cioè alle 17.57 Cara si è fermata al supermercato, stop and shop. Ha provato in vano a richiamare Anne Marie più volte. La sua macchina viene ripresa da una telecamera di sorveglianza e gli investigatori notano che sul pianale del pick up, una piattaforma aperta, sono presenti un cesto della biancheria intima e una borsa rossa. Entro le 18 e 19 Cara si è diretta da un Burger King situato a circa 5 miglia dalla sua casa a Granby. Ha comprato lì la cena sia per sé che per Brianna. Nel video di sorveglianza si vedono ancora il cesto della biancheria e la borsa rossa sistemati sul retro del pick up. Ma quando Cara arriva a casa quegli oggetti non sono più in macchina. Quindi come già sappiamo Cara si è presentata a casa di un vicino alle 19. L'uomo si chiama Roy ha 65 anni ed è un installatore di pavimenti. Roy riferisce che quando Cara ha bussato alla sua porta lui e sua moglie stavano guardando la ruota della fortuna trasmesso dalla NBC. Cara aveva in braccio la piccola Brianna e l'ha messa subito nelle mani del vicino gridandogli di chiamare i servizi di emergenza. Poi si è voltata per correre verso casa. Dopo aver verificato la versione di Cara e raccolto informazioni gli investigatori ritengono che la donna potrebbe avere a che fare con la morte della moglie. Tuttavia le indagini rallentano. Pochi mesi dopo la morte di Anne-Marie Cara vende la loro casa e si trasferisce con Brianna nel Rhode Island dove vivono sua madre e il suo patrigno. Il tempo passa e nessuno viene arrestato. All'epoca il procuratore distrettuale della contea era una donna. Circolano delle voci sul suo conto secondo le quali lei stava ritardando l'arresto di Cara perché non voleva accusare una donna dell'omicidio di sua moglie. Tuttavia un anno e mezzo dopo l'omicidio si insedia un nuovo procuratore distrettuale Dave Sullivan che discute della mancanza di solidità di questo caso partendo dal fatto che ancora nessuno è stato arrestato. Nell'ottobre del 2011 un gran jury della contea dell'Hemshire accusa Cara di omicidio di primo grado. La donna viene arrestata nel Rhode Island prima di essere estradata in Massachusetts. Nel febbraio del 2013 Cara viene processata per l'omicidio di primo grado di sua moglie Anne-Marie. L'accusa sostiene che la relazione tra Anne-Marie e Cara era particolarmente turbolenta. Anne-Marie come ampiamente emerso era una spendacciona che deve a prestiti o carte di credito a nome di Cara e questo di certo aveva incrementato le liti. L'accusa afferma di aver individuato due ex di Cara le quali hanno affermato che lei era molto offensiva nei loro confronti. Che Anne-Marie fosse gelosa di Cara per l'accusa lo si evince dai messaggi che lei aveva mandato alla moglie durante il suo ultimo turno lavorativo. Dunque il litigio si era esteso dopo il rientro a casa finché Cara aveva preso la decisione di uccidere Anne-Marie. L'aveva spinta sulle scale del seminterrato. Anne-Marie era precipitata e Cara le aveva versato della vernice bianca su tutto il corpo e sul pavimento per rendere la scena del crimine più complicata da indagare. Questa operazione secondo l'accusa era avvenuta poco prima dell'arrivo dei soccorsi perché sentite bene la vernice lucida applicata appariva di colore rosa pallido caratteristica di quando è ancora fresca mentre diventa bianca dopo l'asciugatura. Dunque la vernice non era rosa perché è mescolata al sangue della vittima come ipotizzato in un primo momento. Poi l'accusa discute dello straccio sporco di sangue che come testimoniato dal filmato di sorveglianza Cara aveva gettato nel bidone della spazzatura del parcheggio di un McDonald's e sono ritenuti sospetti anche il cesto della biancheria e la borsa rossa misteriosamente scomparsi dall'auto di Cara. Forse rappresentavano delle prove schiaccianti per incriminarla. Secondo il medico legale come detto Elmaria era stata uccisa tra le 11 e le 13 del giorno seguente. Questo vuol dire che potrebbe essere morta anche un paio di ore prima che Cara uscisse per sbrigare le sue commissioni. Secondo questa teoria Cara mentre era in giro aveva mandato dei messaggi ed effettuato delle chiamate sul cellulare della moglie defunta per coprire le proprie tracce. Voleva risultare all'oscuro della sua morte. Poi una volta tornata a casa aveva versato la vernice sul suo cadavere. Concludendo l'accusa sostiene che Cara aveva i mezzi, il movente e l'opportunità per uccidere sua moglie e lo aveva fatto. Tuttavia la difesa sostiene che la polizia si avrebbe dovuto considerare Cara come una sospettata dell'omicidio di Anne-Marie ma non escludere chiunque altro dalle indagini. A questo proposito la difesa indica due sospettati alternativi tra cui un caro amico di Anne-Marie. Mark. Si scopre che quella notte mentre Anne-Marie litigava con Cara tramite messaggi arrabbiata per la proposta che Mike aveva fatto alla moglie, contemporaneamente Anne-Marie stessa scriveva anche a questo Mark, amico di vecchia data e collega di lavoro. Ma forse non solo questo. Infatti sembra che i due si stessero avvicinando fin troppo. Anne-Marie e Mark programavano i loro turni di lavoro in modo che fossero presenti nelle stesse ore per poter trascorrere più tempo insieme. In alcune occasioni Mark mentre era Cara a svolgere il turno di notte andava a trovare Anne-Marie a casa sua. Mark aveva addirittura permesso ad Anne-Marie di usare tre delle sue carte di credito e lei era arrivata a spendere circa 6.000 dollari. In questo primo processo, perché sì ce ne saranno altri, Mark non testimonia. Invece durante il secondo, nel 2014, emerge che era innamorato di Anne-Marie, sebbene fosse sposato. Mark afferma che lui e Anne-Marie non hanno mai avuto un rapporto intimo, ma lui sperava che prima o poi sarebbe accaduto, ecco perché le aveva permesso di usare le sue carte di credito. Durante il suo primo interrogatorio con la polizia, Mark ha mentito su dove si trovava il giorno dell'omicidio di Anne-Marie, affermando che era sempre rimasto a casa. Ma poi emerge che, in realtà, aveva sbrigato diverse commissioni. Era andato in banca nel primo pomeriggio, poi si era diretto a Walmart per acquistare dei pantaloni sportivi, successivamente era andato al supermercato per comprare la lettiera per il suo gatto. A questo proposito era stato individuato un pelo di gatto proprio sul cadavere di Anne-Marie, al momento del ritrovamento, ma lei e Cara non possedevano un gatto da almeno nove mesi. Questo quindi potrebbe estendere la lista di sospettati a Mark o a qualcun altro in possesso di gatti o che aveva interagito con dei mici. In ogni caso, non si tratta di una prova, perché i peli dei gatti sono davvero difficili da eliminare, quindi magari Anne-Marie aveva semplicemente fatto visita a Mark di recente e aveva accarezzato il suo gatto. Dell'altra sospettata indicata dalla difesa ne avete già sentito parlare, si tratta di Carla, l'ex di Anne-Marie, che l'aveva ospitata in casa propria per un breve periodo prima che Anne-Marie sperperasse ben 110.000 dollari dalle carte di credito della nuova compagna. Questo aveva causato la loro rottura, Carla l'aveva cacciata e Anne-Marie, poco tempo dopo, era tornata a vivere con Cara. Carla, comprensibilmente, era arrabbiata con Anne-Marie, visto che aveva speso tutti quei soldi che non le appartenevano e questo per la difesa di Cara potrebbe costituire un movente. Inoltre, secondo la difesa, le foto scattate sulla scena del crimine inquadrano una stanza piuttosto buia dove la vernice non sembra rosa, bensì bianca, quindi già asciutta. Vi mostro ora la foto, a me sembra chiaramente vernice rosata, ma giudicate anche voi e fatemi sapere. La difesa decide anche di portare alla sbarra dei testimoni il proprio medico legale, il quale afferma che la morte di Anne-Marie era avvenuta tra le 14.30 e le 17.20, cioè in un lasso di tempo in cui Cara non era a casa. Dunque, la difesa asserisce che non ci sono prove sufficienti per affermare che Cara ha ucciso sua moglie oltre ogni ragionevole dubbio. L'accusa di contro conclude affermando che non c'è modo di sapere dove fosse Cara nei frangenti in cui non è stata ripresa dai video di sorveglianza, ma si può desumere ragionevolmente che fosse impegnata a eliminare le prove della sua colpevolezza. L'accusa non vuole prendere in considerazione tutte le teorie sostenute dalla difesa che, a dirla tutta, descrive come stravaganti. Sa di aver individuato l'assassina, li presenta in tribunale. Non ci sono dubbi, Anne-Marie e Cara hanno iniziato a litigare tramite messaggi. Quando Anne-Marie è tornata a casa, la lite non si è placata, ma al contrario è diventata violenta, finché Cara ha spinto Anne-Marie giù per le scale del seminterrato. Poi ha cominciato a temere che la moglie potesse sopravvivere alla caduta, che le avrebbe accusata di aggressione percosse e che, di conseguenza, la piccola Brianna le sarebbe stata portata via. Così Cara ha deciso di scendere quelle scale e strangolare Anne-Marie per assicurarsi che morisse. Dopo le dichiarazioni conclusive, la giuria viene inviata a deliberare. Passano quattro giorni, ma del verdetto non c'è neanche l'ombra. La giuria è in difficoltà perché ritiene che Cara probabilmente abbia ucciso Anne-Marie. Tuttavia, quattro dei dodici giurati credono che l'accusa non abbia dimostrato la sua colpevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio. Infine, dopo quattro giorni e mezzo di deliberazione, il 13 marzo 2014, i giurati dicono al magistrato che sono in una situazione di stallo. Così il giudice dichiara che il caso richiederà tre processi aggiuntivi. Ricapitolando, a seguito del primo processo, nel 2013 a Cara era stata negata la libertà su cauzione. Lei quindi aveva atteso in carcere fino all'inizio del 2014 per il secondo processo, quello in cui testimonia Mark, amico molto vicino a Anne-Marie. Ma alla fine di questo secondo processo la giuria si è trovata nuovamente in stallo e stavolta viene fissata per Cara la cauzione di 150 mila dollari, così lei la paga e viene rilasciata. Nel settembre del 2016 Cara affronta il suo terzo processo. Questa volta l'accusa porta alla sbarra un uomo di nome David, un ingegnere della qualità che lavora presso l'azienda che produce la vernice trovata sulla scena del crimine. David afferma che la vernice è stata versata non più di quattro ore prima che venissero scattate le foto della polizia, alle 21. Il modo in cui si presenta la vernice indica che era stata cosparsa sul corpo della vittima consapevolmente e non che sia sgorgata accidentalmente dal secchio che la conteneva. Siccome il cadavere di Anne-Marie era stato ritrovato intorno alle 19, quindi quella vernice era stata versata al massimo intorno alle 17, non prima. Dunque la testimonianza di David sembra voler dimostrare che qualcuno aveva ucciso Anne-Marie all'inizio della giornata, poi era tornato nel pomeriggio e le aveva versato addosso la vernice prima di chiamare i soccorsi. L'unica persona che avrebbe potuto farlo è Carla, che al termine di questo terzo processo viene giudicata colpevole di omicidio di primo grado e condannata all'ergastolo senza condizionale. Tuttavia nel marzo del 2018 Cara presenta un ricorso in appello e la squadra di difesa esibisce un documento di 47 pagine sui principali motivi per cui lei sarebbe stata condannata ingiustamente. Tra questi spicca la testimonianza dell'ingegnere che mancava della necessaria competenza. Nello specifico il suo parere sull'orario del decesso di Anne-Marie non combacia con quanto sostenuto dai medici esperti. La più alta corte del Massachusetts esamina l'appello e si trova d'accordo con la difesa sull'inammessibilità di David come testimone dell'accusa. Dunque annula la sentenza contro Cara. Dal novembre 2021 Cara viene rilasciata e comincia a vivere libera su cauzione con la sua famiglia nel Rhode Island, anche se soggetta a un coprifuoco stabilito dal tribunale e al monitoraggio del GPS. Tuttavia il suo contorto intergiudiziario non si è ancora concluso. Circa due anni dopo, infatti, Cara torna in tribunale per il suo quarto processo. Ha ormai 57 anni. Le argomentazioni di battute sono simili a quelle del terzo, anche se questa volta non è coinvolto l'esperto di vernici. Dopo due settimane la giuria viene chiamata a deliberare, ma il giudice, per motivi poco chiari, è costretto a licenziare due giurati che devono essere sostituiti. Dopodiché le deliberazioni riprendono per altri due giorni e si concludono con questo verdetto. Cara viene condannata per un'accusa minore di omicidio colposo che consiste in una pena che va dai 12 ai 14 anni di prigione. Suo figlio, ormai adolescente, prima della sentenza aveva chiesto in vano al giudice di rilasciare la madre e permetterle di ritornare a casa. In questo caso così controverso e spinoso, la certezza assoluta è che Brianna ha perso entrambe le sue mamme. Voi cosa ne pensate? È Cara la colpevole? Allora, ho finito riparlare in questo video e onestamente sono curioso di sapere la vostra opinione perché ho trovato interessante questo caso proprio per l'elemento della vernice sopra la vittima. Può essere un buon trucchetto, passatemi il termine, perché vengono eliminate sia le tracce di DNA sia le tracce di impronte digitali. Quindi ho trovato interessante questa bizzarria, questa cosa strana, non ho mai visto un caso del genere prima. Tuttavia io credo che la colpevole sia Cara, perché aveva il movente, obiettivamente aveva un movente e perché non credo che sia così facile entrare in casa di qualcuno, buttarlo giù per le scale del seminterrato e poi tornare ore dopo per versarle addosso della vernice. Penso che l'unica che potesse farlo fosse Cara. Ma fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto, come al solito ci becchiamo nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Basta che non facciate nulla di criminale.